Due luoghi successivi, due luoghi importanti per la città, finalmente ritorna a vivere la Fortezza ma anche continua l'estate al nostro Cinema Eden. In Fortezza ci saranno due spettacoli principali, Elio e Stefano Massini, che affronteranno due artisti importanti come Yannacce e Gaber, più delle situazioni collaterali molto interessanti, anzi ad ingresso gratuito, con un cantatore in utero, uno spettacolo portante di poesia e musica e uno spettacolo di teatro dal titolo Rollato. Quindi per i più giovani sono due spettacoli sperimentali e interessanti. Il Cinema Eden continuerà a caratterizzarsi con il teatro musicale, il teatro con la musica dal vivo e il teatro in prima nazionale. Quindi partiranno da qua degli spettacoli e poi l'inverno prossimo frequenteranno i teatri della nostra nazione.